Noi del CONI siamo sempre felici ovviamente quando si apre un impianto sportivo, ma quando si riapre il collana che ha avuto vicissitudine lunghe e incredibili, sicuramente la gioia è maggiore. Il collana rappresenta la storia dello sport pomerese, napoletano e campano, ha dato campioni in tante discipline e tutti vedevano il collana sempre come punto di riferimento, come punto centrale di tutto lo sport cittadino. Quindi in un momento dopo le universiadi, dopo il momento esaltante delle universiadi, l'unico anello che mancava era proprio la riapertura del collana e questo non può che renderci felici. Torno a ripetere, è un segnale di speranza e di fiducia per tutto il mondo sportivo.